Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed è un mese che non registro, ma sono stato estremamente impegnato con il lavoro e per farmi perdonare vi porto oggi le mie impressioni barra recensione del dissipatore ad aria a basso costo che mi ha fatto smontare il mio dissipatore al liquido dal PC. Stiamo parlando del Peerless Assassin 120 di Thermal Right. E credetemi, questo dissipatore è davvero qualcosa di assurdamente figo. Prima di cominciare col video vi dico che in descrizione c'è il link al canale Telegram delle offerte, il nuovo punto di G Offerte Tech, un canale che sarà gestito da me e da collaboratori super fidati. Quindi in descrizione c'è tutto, andate un pochettino a fare una visita a questo bellissimo canale, cominceremo da subito con il proporre offerte molto interessanti e poi c'è lo sponsor del video, quindi rimanete sintonizzati. Ok, no! Oddio per sbaglio ho cancellato quel video importantissimo per questo progetto super mega importante! Se solo ci fosse un software in grado di farmi recuperare i file che ho definitivamente cancellato dal cestino! Ehi, aspetta un attimo, ma questo software esiste. E ora ve lo faccio vedere. Ed ecco a voi il Data Recovery di Tenorshare. Come potete vedere, appena aprite il software c'è un'identificazione dei dischi presenti nel vostro sistema. Ed oltre a recuperare i file cancellati in maniera definitiva, è possibile anche recuperare i dati da un sistema in panne, riparare foto non riparabili e riparare video non riproducibili, che per noi youtuber è qualcosa di estremamente utile. Ma vediamo un pochettino come funziona. Io vado su scansione, scansiono di nuovo perché ho fatto una scansione poco fa, scansiona tutti i tipi di file selezionati e vediamo un pochettino cosa succede. Il software piano piano comincerà a cercare nei metadati, o comunque nei dati ormai cancellati dal vostro cestino, e riuscirà a ritrovare ogni singolo dato con le estensioni che avevate specificato prima. Ovviamente troverà file singoli, cartelle e tutto ciò che è passato per il vostro cestino anche molti, molti, molti mesi fa. Ad esempio, se io qualche tempo fa ho cancellato dati da Steam, mi farà accedere a tutte le cartelle con tutti i dati dei giochi che ho cancellato per sbaglio, e una volta selezionati io potrò anche recuperare i dati di cui ho bisogno. Che dire, questo software è estremamente utile se col pc lavorate e siete diciamo un po' scordareglie, e per sbaglio qualche volta cancellate dei dati che possono essere utili anche alla vostra attività. In descrizione c'è il link per scaricare il software, veloce, interfaccia bella, sicuro e facile da usare. Cosa aspettate? Cliccate in descrizione. Allora, parto col dire che lo sponsor del video, come avete visto, non è Thermalright. Il Peerless Assassin 120 l'ho acquistato io, perché il prezzo è estremamente abbordabile e credo sia il dissipatore ad aria definitivo per il rapporto qualità-prezzo che riesce a offrire. Come potete vedere su Amazon il prezzo varia, ma siamo più o meno intorno ai 55, massimo 60 euro di prezzo, che per un dissipatore ad aria di fascia alta è un prezzo decisamente ottimo, perché sul canale vi ho portato altri dissipatori ad aria di fascia alta che però andavano a sfiorare pure gli 80-90 euro. E sinceramente parlando, questo dissipatore a doppia torre con 6 heat pipe e un TDP che se non era di 250 watt potrebbe decisamente stupirvi. Innanzitutto per l'estetica perché è tutto, tutto, tutto bianco. È qualcosa di molto molto bello, è un pezzo di design, in effetti a me è piaciuto davvero tanto tirarlo fuori dalla scatola e notare come ci fosse una cura maniacale per il dettaglio, le forme, le piegature dell'alluminio. È qualcosa che io tengo molto in conto e quindi da questo punto di vista viene decisamente promosso. Esce dalla scatola con due ventole RGB e sono precisamente le TLC12WS. Non il nome più semplice da ricordare, però funzionano davvero davvero bene. Cominciamo col dire che il dissipatore è alto 157 mm, quindi 16 cm, che non è poco, if you know what I mean. Quindi vi serve un case che sia decisamente largo per farcelo entrare tutto, però fondamentalmente non è così grande da non poter entrare in alcuni case. Nel mio Silent Base 802 di Be Quiet c'entra praticamente il Dark Rock Pro 4 senza problemi, quindi non è stato assolutamente un fastidio montare questo dissipatore. Compatibile con tutti i socket Intel e il socket AMD AM4 e compatibile anche col socket AM5 a dire la verità, perché non dovete cambiare la piastra che esce con la scheda madre e sappiamo benissimo che se un dissipatore viene montato sul socket AM4 sulla piastra posteriore della scheda madre è automaticamente compatibile anche col socket AM5, quindi da questo punto di vista nessun problema. Per quanto riguarda l'unboxing si tratta di un prodotto che fondamentalmente non costa tantissimo, quindi non vi aspettate una esperienza premium, ma ciò non significa che i prodotti che trovate all'interno della scatola siano di scarsa qualità, assolutamente. Ero un pochettino riluttante per quanto riguarda la pasta termica, perché io ho recensito una pasta termica di Thermalright, ma non avevo mai provato la TF7 e sinceramente parlando è la pasta termica che ho messo sul processore per provare appunto questo dissipatore e non me ne pento minimamente. Allora, dissipatore ad aria con doppia torre e 6 pipe. Quali sono i problemi grandi di questo dissipatore? Fondamentalmente voglio subito evidenziare il problema più grande che c'è stato secondo me, e cioè vi serve un cacciavite lungo per montare il dissipatore alle piastre che devono essere avvitate alla scheda madre. È vero che in dissipatori le cui marche sono più blasonate, faccio l'esempio del Dark Rock Pro 4 di Be Quiet, esce il cacciavite, che poi ovviamente è vostro, quindi lo acquistate insieme a tutto il dissipatore, che è della lunghezza giusta per avvitare appunto il cooler alla scheda madre. In questo caso dovete procurarvi un cacciavite abbastanza lungo affinché riesca ad attraversare il dissipatore per tutta la lunghezza. Io avevo questo cacciavite della Wera ed ha funzionato decisamente bene, quindi dovete avere un cacciavite abbastanza lungo, ma questo è l'unico problema di cui effettivamente posso lamentarmi. Il montaggio è stato estremamente semplice, non ho un footage preciso di come venga montato il dissipatore, ma nel libretto di istruzioni c'è tutto quanto illustrato nella maniera più semplice e elementare effettivamente che il cervello umano possa comprendere. Nel libretto di istruzioni che è estremamente dettagliato vi viene detto come appunto montare il tutto. Io adesso ho un piccolo footage del dissipatore già montato per farvi capire un pochettino come funziona il tutto. E apro e chiudo parentesi perché questa ripresa, senza qualche skill da videomaker, non sarebbe stata possibile. In pratica come funziona il tutto? Dovete mantenere la piastra posteriore della vostra scheda madre se avete una scheda madre con socket AM4, poi prendere lo standoff rosso, metterlo sul buco corrispondente, prendere poi il bracket che dovrà sostenere il dissipatore e avvitarlo. Quindi questo è l'ordine. Da dietro, piastra scheda madre, standoff, bracket e vite. Il tutto è estremamente semplice e credo funzioni allo stesso modo anche per i socket Intel perché, come ho detto, si tratta solamente di avvitare quattro viti e il supporto per il dissipatore poi è già bello che è montato. Poi basterà in effetti avvitare le due viti sul corpo principale del dissipatore ai supporti e siete pronti a partire. Le due ventole vengono fissate al corpo lamellare tramite due ganci e vanno ad adagiarsi sulle RAM. Io ho delle 3 tensi NIO DDR4 e sebbene non siano le RAM più alte del mondo, le ventole ci si appoggiano senza fare pressione sui banchi, quindi non mi posso lamentare da questo punto di vista. Forse mi sarebbe piaciuto vedere un design un po' diverso perché adesso non posso vedere i colori delle mie RAM, ma poco importa poiché le ventole, essendo a RGB, possono tranquillamente cambiare colore a vostro piacimento. I cavi di alimentazione delle ventole sono slivati, sono totalmente bianchi e i cavi RGB non sono slivati, però sono anche loro bianchi, quindi GG, ci piace davvero tanto. Ma basta parlare dell'estetica, parliamo un pochettino di performance. Quello che state vedendo a schermo è un test sintetico e un test sui videogiochi, sul mio Ryzen 9 5900X, messo nella casistica peggiore nel quale possiate mettere un Ryzen 5000. E cioè, s'avvia il computer, non fate nessun tuning e lasciate che la scheda madre gestisca da sola la tensione sulla CPU. Una X570M Ace, come quella lì che ho io, riesce a pompare ben 1.45V all'interno della CPU, e credetemi, tutta questa energia in eccesso si trasforma in output termico decisamente non necessario. Ma il Peerless Assassin riesce tranquillamente a sostenere qualsiasi carico, sia esso un test sintetico su Cinebench R23, e per non parlare nei videogiochi, perché riesce tranquillamente a tenere il processore su temperature molto molto accettabili. Ovviamente facendo un po' di undervolting al chip come l'ho fatto io, io personalmente non ho mai visto questo processore superare i 60 gradi su Stress Test, e adesso in idle per farvi capire, è sui 37 gradi. Siamo ad aprile, ok, non fa caldissimo, ma 37 gradi con le luci da studio accese e la stanza chiusa, credetemi, è un risultato davvero davvero ottimo per un processore a 12 core e 24 thread. Per quanto riguarda la rumorosità, io adesso sto zitto un secondo, alzo l'audio del video, e potete tranquillamente sentire quanto sia silenzioso questo dissipatore. Vi posiziono anche meglio il microfono, perché questo microfono, questo qui che sto utilizzando, è un ipercardiode e riesce tranquillamente a prendere il suono del mio computer, per cui adesso lo punto lì e mi dite un pochettino se è fastidioso o meno. Giusto per essere onesto con me stesso, ora faccio partire anche Cinebench R23 Multicore, e vediamo un pochettino se il volume comincia ad essere percettibile, sicuramente sarà percettibile, ma le ventole andranno al 100%, ovviamente, per raffreddare la CPU, e credetemi, non sentirete alcun fastidio, o almeno io, con il case qui, di fianco a me, non sento alcun fastidio. Abbiamo raggiunto i 60 gradi di picco, quindi con le ventole che andavano tranquillamente al di sopra della percentuale di utilizzo normale, o di giri al minuto normale, io sentivo comunque i rumori da fuori la strada, ma questo dissipatore non era affatto un fastidio. Perché ho deciso di acquistare questo dissipatore? Innanzitutto devo ringraziare il mio mega super moderatore, Samuele, che è appassionato di dissipatori ad aria, e mi ha effettivamente incuriosito, perché al prezzo di 55€, avere un dissipatore ad aria di fascia alta è qualcosa che volevo in effetti provare. Oltretutto sono stato convinto dalle recensioni di Gamer Nexus in primis, perché sebbene sappiamo che un dissipatore a liquido sia più efficiente magari nel dissipare il calore da una CPU, un dissipatore ad aria a questo prezzo, che riesce a tenere a bada praticamente qualsiasi tipo di processore, è qualcosa di molto, molto appetibile per la maggior parte delle persone. Per farvi capire, con 55€ voi acquistate forse 2-3 ventole di un dissipatore ad aria di fascia media. Qui con 55€ avete totalmente un intero dissipatore da poter utilizzare, sia su workstation che sono messe in case abbastanza grandi. Secondo potete utilizzare questo dissipatore su processori da gioco, ad esempio da poco AMD è uscita con il Ryzen 7 7800X 3D, e sebbene sia un 3D, quindi con frequenze più basse, scalda comunque abbastanza. Questo dissipatore, vi ripeto, al costo di circa 55-60€, è in grado di tenere a bada quel processore senza il minimo problema, tenere a bada anche un 7900, un 7950X, e ovviamente la controparte 3D senza il minimo problema. Voi provate a immaginare questo dissipatore su un Ryzen 7000 non X, sarebbe effettivamente tenerlo a temperatura ambiente, in pratica. Se riesce a tenere a bada un Ryzen 7000, riesce tranquillamente a tenere a bada anche un Intel di tredicesima generazione, qualsiasi tipo di modello, anche forse il 13900KS, non ho fatto dei test, ma suppongo che possa in effetti performare allo stesso modo. Io vedo però l'applicativo di questo dissipatore per i gamer enthusiast, per il semplice motivo che, uno, è bianco, è bello, due, ha un potere dissipante assurdo, tre, è virtualmente indistruttibile. I dissipatori a liquido sappiamo che hanno più punti di rottura, possono essere i tubi, può essere la pompa, possono essere le ventole che di punto in bianco va abbandonano, qui, se dovete cambiare una ventola, magari poi ne prendete una, ad alte prestazioni avete prestazioni anche maggiori, quindi è un affare. Io vi ripeto, non sono stato pagato da Thermalright, ho pagato con i miei soldi, ho voluto aspettare circa dieci giorni per far uscire questa review, perché volevo vedere in quanti e quali scenari questo dissipatore fosse meglio del mio dissipatore a liquido, e voi lo vedete, io non ho più il dissipatore a liquido, e non lo vedrete per molto molto tempo sul mio PC, perché questo dissipatore ad aria potrebbe essere seriamente la scelta per content creator, gamer e soprattutto streamer che magari vogliono giocare e streamare con una sola macchina e quindi la CPU deve rogare un sacco di calore. Detto ciò ragazzi, questa era la mia recensione, spero di avervi aperto un pochettino gli occhi su questo fantastico dissipatore, è stata una rivelazione, veramente. Molte volte su Amazon scende anche sui 45€ e a quel punto dovreste in effetti acquistarlo, c'è anche la versione SE, che se non sbaglio dovrebbe essere un po' più piccola di dimensione, dovrebbe avere bene o male le stesse prestazioni, e costa un po' di meno, quindi stiamo parlando di un prodotto da rapporto qualità-prezzo impareggiabile. Come vi ho detto, molti recensori sull'internet lo ritengono uno dei migliori dissipatori ad aria mai creati per, appunto, l'ottimo rapporto qualità-prezzo che c'è, la bellezza estetica, perché è grosso, è ingombrante, ma almeno è bello da vedere. A me piace davvero, davvero tanto. Per cui, il video finisce qui, grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine. In descrizione c'è il nuovissimo canale delle offerte, per cui non mancate che vi aspetto, vi controllo tutti, capito? Vi guardo tutti, vi guardo. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli! Ciao!